Viaggio a Piano Gentile Milano, quest'oggi in compagnia di Juan Pablo Carrizo. Come ti devo chiamare innanzitutto? Perché io non so mai... No, diciamo che qualcuno mi chiamano Pablo o del soprannombre Carri, come il cognome... Tu come preferisci? Così anche i nostri tifosi poi quando ti iscrivono ci mandano... No, no, Pablo, Pablo, Pablo mi sta simpatico. Ti sta simpatico, come non ho mai scelto questo dei due. Sì, è un nome che mi piace. Ma tu già facevi il portiere? Perché a me incuriosisce sempre quando si gioca da piccolo. E solitamente quello meno forte deve andare in porta perché fa meno danni. Tu invece hai scelto? A me ho scelto il ruolo del portiere perché da piccolo mi piaceva buttarmi per terra. Andavo a scuola, prendevo i sedi e le mettevo una a fianco all'altra. E saltavo sopra, quindi già da piccolo avevo, non so, questo dono. Questa passione di tuffarsi. E poi una volta le ho detto mamma portami a allenarmi che voglio giocare a calcio. E lei dopo la scuola mi ha portato, c'era il mister di quel momento. Il mister mi chiedeva a me di che ruolo mi piaceva giocare. E io non rispondevo, stavosito, ero bolunzo. E mia moglie, mia mamma, lui fa il portiere. E da lì è nato. E io non rispondevo. Grazie a tutti